Ciao a tutti, vediamo in questo video nove frasi di Confucio che ti ispireranno a migliorare la tua vita. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, la prima frase di Confucio che ci ispira a migliorare la nostra vita è la seguente. Le cose buone vanno ricercate. Questo è interessante perché, come dire, se le cose vanno normalmente in un gerbino è più facile che crescano le erbacce che il fatto che crescano il prato inglese. Il prato inglese va ricercato. Non ha un modo di dire perché il cambiamento è inevitabile ma il miglioramento va ricercato. Seconda frase, è importante saper scegliere gli amici. E questo è fondamentale perché noi possiamo essere puri come diamanti ma se siamo immersi nel liquame rifletteremo il liquame. Quindi, circondarsi di persone felici è molto meglio che circondarsi di persone infelici. Terza frase, vai avanti anche se il cammino è difficile. Noi dobbiamo motivarci, non dobbiamo arrenderci. La motivazione è una cosa fondamentale. Possiamo perdere una battaglia ma alla fine vinceremo la guerra. Questo dobbiamo ricordarcelo perché la guerra la vinceremo veramente se riusciamo a perseverare. Quarta frase, evitare di concentrarsi sul passato. Cioè, il passato, le nostre cicatrici devono ricordarci dove siamo stati, ma non, diciamo, ricordarci, oppure indicarci dove dovremmo andare. Il passato deve essere un'esperienza che ci insegna ad andare oltre, ci insegna a guardare oltre, ci insegna a superare i limiti che possiamo avere. Un'altra frase, un'altra frase, mettici il cuore. Qualunque cosa tu faccia ci devi mettere il cuore, altrimenti resterà una cosa superficiale, non ti darà un insegnamento, non ti darà nulla di buono. Sesta frase, controlla il tuo temperamento. E quando sorge la rabbia, pensa alle sue conseguenze, cerca di farla passare, senza comprimerla, ma, diciamo, lasciando che possa diventare un moto, propulsore, un'energia per raggiungere obiettivi importanti. Settima frase, valuta il tuo operato. Quando noi dobbiamo darci dei feedback, voglio raggiungere un obiettivo, faccio una cosa e devo guardare il risultato, e sulla base di quel risultato deciderò un'ulteriore azione. Questo è il principio, diciamo, per poter raggiungere qualunque risultato. Come diceva Einstein, la vera pazzia dell'essere umano è credere che si possano fare sempre le stesse cose, ottenendo risultati diversi. Ottava frase, tutti possono insegnarti qualcosa. Alcune persone ti possono, diciamo, dare degli insegnamenti, perché ognuno, ogni persona può essere un maestro. Si possono scoprire le cose positive di una persona e imitarle, e prenderne, diciamo, farne tesoro, cercare di imitarle. E si possono prendere, diciamo così, se un'altra persona ti dà un esempio da non seguire, ti fa capire, diciamo, che cosa sono le cose sbagliate, quelle cose da evitare. Noi possiamo imparare anche dagli errori degli altri. Questo è un'altra cosa molto, molto importante. Un'altra cosa fondamentale, e la nona frase, è impara ad avere obiettivi alti, aspettative basse, e fare uno sforzo continuo. Perché il modo migliore per essere delusi è avere delle aspettative alte, idealizzare. E il modo migliore per non raggiungere gli obiettivi è arrendersi subito, oppure darsi degli obiettivi bassi. Quindi questo è quello che dovremmo imparare a fare per migliorare la nostra vita. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!